Sale il bilancio dei morti per gli incendi in Europa. Le ultime due vittime si registrano nella zona boschiva della regione della Tessaglia in Grecia, nei pressi di Volos. Quello della Tessaglia è l'ultimo rogo divampato nella penisola ellenica che ha visto bruciare diverse isole, meta di vacanzieri europei. Sembrano sotto controllo gli incendi in Sicilia che hanno seminato morte e bruciato 700 ettari di bosco. I danni ammontano per il momento a 60 milioni di euro, cui si devono aggiungere 200 milioni per i danni all'agricoltura causati dalla siccità. Sono nove i paesi del bacino mediterraneo interessati dai roghi. L'Algeria paga il tributo maggiore in vite umane. Sono almeno 40 i morti. Tra le vittime anche militari mobilitati per l'emergenza. La Corsa alla Solidarietà ha mobilitato tutte le comunità che inviano aiuti e soccorsi nelle zone più colpite, come Beja.